Oggi siamo all'Alcantara, che sono quelle gole là sotto, che non si vede niente, che non si vedranno mai. Ok, abbiamo iniziato il progetto, praticamente facciamo una camminata di circa un'ora, un'ora e venti e ovviamente è sotto al sole ragazzi, quindi il mio essere già rosso peperone peggiorerà solo. Ed è tipo tutto così bello pianeggiante, in mezzo alle varie robine da guardare, tutto molto tranquillo, bello. Un po' freddina, ma si sa. Com'è l'acqua, signor Cronius? Sto morendo. Com'è l'acqua qua? È calda eh? È calda vero Cristian? Ah, è fredda. È fredda papà. Papà è fredda. Dopo essere andati all'Alcantara siamo venuti questa sera a Taormina, che è un piccolo paesino sopra una montagna molto molto caratteristica e molto molto antico. Diciamo che è rimasto vecchio rispetto al solito. Quindi ora, avanti per l'esplorazione. manco meno di un minuto a mezzanotte. Mezzanotte! Cazzo sì, ciao! Fatta! Ma che vuol dire? È mezzanotte! Auguri! Tanti auguri! No, senti, fallo finto, fallo finto. Ok. Allora, è mezzanotte del 14 agosto. Si vede un cazzo. Aspetta, mettigli a farglielo a metterla a fuoco. Messa a fuoco. Salvo. È mezzanotte del 14 agosto. Ufficialmente ho 22 anni e quindi penso di essere vecchio. Sì, lo sei. Ora, c'è un piccolo rito qua all'azione del sud. Vuoi farglielo tu, Peppe? Il tiramento delle orecchie? No, no, Salvo. Sembra una cosa più indicata a te. Va bene, venga. Mi tenga la telecamera. Bene. Bene Axel, preparati che le tue orecchie da rosse passeranno a... Mettete, rosso fuoco. Ok. Ok, bimbi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, a sette, diciotto, e a nove, venti, ventuno, ventidue! Ok, sono ufficialmente 22 anni. Sono ufficialmente 22 anni. Dai, come ci sento ad essere vecchio? Adesso mi sto dicendo opla. Esatto. E poi dopo inizierò ad avere le artrosi e il mal di schiena. No, aspetta, quello ce l'ho già, non cambierà nulla. Sì, appunto, sei già vecchio, quindi... Sono già vecchio dentro. Anche qua sopra. La pelata. La pelata. Che nessuno vede, fra parentesi, perché loro l'hanno vista per la prima volta, dai YouTube non si vede, quindi... A posto. A posto. Giorno seguente delle clip che avete visto ieri sera. Abbiamo la stessa maglietta. Eeeh! Cazzo quanto la devo abbassare per farci vedere. Abbiamo la stessa maglietta. E adesso andiamo al sushi. Ecco. Iniziamo ben questi 22 anni. Sfondiamoci di sushi facendoci male al fegato. Sono bassa. Sì, sono un po' bassa. Siamo arrivati al sushi. Qua c'è Salvo. Qui abbiamo Aurora. Marti e Peh. Ok, clip in macchina. Spero non ci sia troppo rumore sottofondo, ma la macchina del signor Faffo è un po' rumorosa con le sospensioni. Un po'. Giusto un po'. Non abbiamo più le sospensioni in questa macchina praticamente. No, no. Non esistono più. Eeeh. Quindi dopo la torta, adesso stiamo andando a Santo Sabba. San... Si dice San Sabba. Ma siccome noi messinesi siamo ignoranti, diciamo Santo Sabba. Ok. Sarebbe San Sabba. San Sabba. San Sabba. Ok, San Sabba. Ce l'abbiamo fatta. Un nome complicato. Eeeh. Andiamo a mare. Eeeh. Con tre M. A mare. Bravo, stai imparando il sushi. Esatto. Eeeh. Ci siamo il pomeriggio. E poi saliamo sulle montagne di sabbia. Che vi mostriamo dopo. Siamo arrivati a Capo Peloro, che è praticamente la parte della Sicilia più vicina all'Italia, dove è situato appunto il pilone, che voi vedete qua. Che cos'era il pilone? Praticamente era il traliccio che permetteva alla Sicilia di avere la corrente dall'Italia. A presto. 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 Saba, come potete vedere da questo cartello, dove è presente la residenza abbandonata del signor Pè. Residenza che ora andremo a visitare perché è famosissima tra di loro, ma io non ci sono mai stato e quindi è necessario esplorarla. Iniziamo l'esplorazione abbandonata. Facciamo urbex anche in Sicilia. Ma senta, senta, gli spiego perché è qua. Guarda, qua l'avete visto Pedro. L'ha rotto Heidi questo. Ecco, è quello famosissimo. È quello dello scotch? Sorpresa. Basta, ti aspettavi più niente che stavo vorendo. Grazie. Sorpresa. Non puoi questa casa? È la casa dei comprianni. Coniglietto! Oddio, è stupendo. Il lamo di Fortunato! Il lamo di Fortunato. È piccolino così c'entro. È piccolo in valigia. No, l'ho mai detto con lo gigante, ma poi è quella che mi faccio in valigia. Ah, smetti di fare l'umore che non sia il tuo cazzo. Mostralo, mostra l'uomo molesto che fa il dito 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 che fa il dito. Ehm. Bene, che hai detto che fa il dito. Perciò l'uomo. Sii dito, adesso non ricordo. Il nome delle dti. La dama. Beh, lo spara cose quando gli smannetti dentro durante il gioco. È il lamo di Fortunato. Il lamo di Fortunato. Sangio di nattuoso. È schiuga. A te non piace poco mai, a te non piace Ah aspetta ma c'è anche scritto Lutz Lama Aspetta, aspetta Lutz Lama E ora Il secondo Nooo Ti piace? È stupenda 98 Megapixel Ma questo è in tutte le live È adorabile È stupenda Sopra contento Parecchio che è diventato più rosso di vino Sei contento? Sì Adesso siamo in macchina con Pe Ciao Del quale abbiamo esplorato la casa E dopo l'apertura regali Ma io non ho capito Vabbè c'è Chris, ma Chris c'è sempre E dicevo Dopo l'apertura regali Ci sta spellando il naso, ho il naso rossissimo Andiamo alle montagne di sabbia Sì, sì, sto morendo Stiamo grondando tutti perché ho un caldo atroce oggi Ieri non era così tanto caldo mi pare Oggi si muore, oggi è il destino che crolliamo E nulla, a dopo Siamo arrivati al mare E Qua sopra ci sono le montagne di sabbia Qua Buongiorno Perdonatemi le condizioni indecenti un po' di tutti E' l'alba del giorno dopo Quindi del 15 agosto E stanotte abbiamo dormito in spiaggia Non abbiamo fatto il falò Perché non si poteva, ovviamente Però abbiamo dormito in spiaggia, è stato molto molto bello sotto alle stelle Non ho dormito un cavolo Per niente Perché era freddo E poi dopo c'era gente che faceva bordello in sostanza Quindi C'eramo io e lui che stavamo ben svegli a guardare Esatto, quindi abbiamo fatto praticamente delle grandi ormiveglia ma eh Adesso è per niente l'alba Quindi adesso gli smollo qualche bella ripresina Noi stiamo andando a prenderci i cornetti alla valle Che è tipo il laboratorio in sostanza Dove li fanno appena freschi Esatto Che sono diciamo quelli più buoni E nulla Via quelli di ripresa Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Ehi